Poche ore il braccio di ferro che anima il dibattito sul nuovo ospedale sì o no lungo l'asse tra Padova e Palazzo Balbi sarà a una svolta. Lunedì il D-Day. Eppure se per alcuni istanti decidessimo di staccare la spina della rivoluzione secondo Bitonci per fare un passo indietro ci stupiremmo non poco. Ecco una delibera del dicembre 2006 ancora disponibile sul sito della Regione Veneto a firma di quell'Adriano Cestrone Peranni, direttore generale dell'azienda ospedaliera. Uno degli esperti chiamati ora dal sindaco per produrre tesi a sostegno del progetto di ristrutturazione era nettamente a favore di un nuovo polo a Padova Ovest. Lo si evince dalle conclusioni della sua breve relazione dove si legge al presidente della giunta regionale la richiesta di inserimento nel processo di programmazione ospedaliera dell'ipotesi di costruzione di un nuovo ospedale. Lo si approfondisce in quel documento di centinaia di pagine firmato poi nel 2011 a quattro mani con il professor Palù, da sempre sostenitore del nuovo ospedale con Campus. Perché questo cambio di rotta ora? Esponendo l'iter di una ristrutturazione a possibili vincoli della soprintendenza vista e considerata l'idea di realizzare la clinica pediatrica dove c'è l'attuale obitorio, l'abbattimento del monoblocco dopo aver costruito un nuovo silos e la sistemazione delle mura del Cinquecento con tanto di riemersione del canale San Massimo. Eppure Cestrone del Giustinianeo diceva allora struttura dalla frammentazione e scarsa razionalità distributiva delle funzioni e strutture ospedaliere didattiche e di ricerca. Da questo disegno dall'appello diventato celebre negli anni perché l'ospedale fosse costruito da ingegneri e non da architetti, parole ancora di Cestrone che spingeva per la praticità operativa della nuova struttura, ora risulta difficile spiegarsi il cambio di idea delle ultime settimane dopo la sua firma in calce a documenti e studi ufficiali negli anni passati a sostegno del nuovo polo. Quasi a parità di costi, nuovo ospedale o ristrutturare, aspettare 5 anni per una struttura nuova e razionale o convivere con 20 anni di lavoro in corso e disagi per i pazienti, ci si augura che lunedì allora sia il giorno per definire una volta per tutte cosa realmente sia meglio per la sanità padovana per garantire l'eccellenza che nei decenni attraverso la storia l'ha resa grande in Veneto e nel mondo.